Insalate. Quando andate al mercato e volete acquistare delle insalatine fresche, queste non devono essere madide di ruggiata, perché è una ruggiata falsa di fatto, non è altro che la spruzzatura del venditore che ogni tanto con lo spruzzino per renderle nell'immagine più fresche ci spruzza l'acqua. Perché dico questo? Perché quelle insalatine facilmente possono marcire con l'umidità dell'acqua che gli viene messa sopra. I cespi di un'insalata buona non devono mai essere afflosciati, belli dritti, con le foglie tese, croccanti. I bordi devono essere integri della foglia, senza tagli e senza rammollimenti magari di colore marrono o giallino. Più le insalatine sono verdi e più contengono nutrienti e principi attivi, è ovvio questo. Un colore smagliante è anche indice di freschezza. Pensate che esistono oltre 100 qualità di insalate, ma noi parliamo delle più diffuse, tipo la rucola, detta anche rughetta, dal sapore amaro, un po' piccante. Oppure la valeriana, dalle foglie carnose, piccole, di colore verde scuro. Oppure la classica, tradizionale lattuga, che è di buona qualità, se ha un cappuccio bello sodo chiuso e foglie sane e tenere. Poi c'è l'indivia e la scarola, che devono avere il cespo compatto, con le foglie fresche e turgite. Fate attenzione anche in questo caso al bordo delle foglie, che deve essere integro, verde, non ingiallito e soprattutto non afflosciato. Aprite leggermente il cespo, guardateci dentro e verificate che all'interno non ci sia formato del marciume dovuto alle troppe annaffiature dei rivenditori. Controllate che il punto del taglio sia bianco, turgito, compatto e non annerito e secco, il che vuol dire che l'insalata è fresca, nel secondo caso che l'insalata non è fresca. Quando comprate un'insalata in busta, controllate sempre che le buste siano nei banchi refrigerati e se all'interno della busta di insalata notate delle goccioline d'acqua tipo ruggiata, tipo condensa, non compratela, rimettetela apposta, anzi avvertite il personale di servizio, perché significa che non è fresca e infatti dovete sempre verificare la data di scadenza. Una volta aperta però la busta, consumatela al massimo il giorno e il giorno dopo, ma non di più. Anche se c'è scritto, e se è scritto a bella vista su tutte le confezioni, insalata già lavata, datemi retta, un'altra lavatina io gliela darei sempre. Anche se c'è un'altra lavatina io gliela darei sempre.